Inizia così la stagione 2015 del top della gamma Molto positivo Per Celtic Frost Inizia così la stagione Buona È medio Buona 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 Hai rotto eh? Hai capito? Senti che sta a fare la ripresa tecnologica qui eh? No, non puoi capire. Il tutto a lune d'Achille. No, ripetegli un attimo la destinazione. Pronunciare un comando. Per conoscere i comandi disponibili è sempre possibile dire aiuto. Qual è il tuo tallone d'Achille? Ma questa è la risposta. Ma questa è la risposta. La risposta è la mansa. Ha, 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 ha. La risposta è la risposta. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti